guarda un giocatore fino a otto partiti fallo fallo niente allora che bellissimo no veramente incredibile è incredibile è incredibile che sia andato dentro annullato bellissimo fuori gioco un massacro un massacro è salvare come un massacro fuori gioco di balla di balla e panca un fuoco incredibile dopo un massacro terribile un fallo incredibile dopo